Nel dicembre scorso aveva versato oltre 65.000 euro all'Agenzia delle Entrate, ma la pace stipulata con il fisco non lo ha salvato da una condanna per evasione fiscale. Stefano Lepri, in arte strepni, 25 anni, fiesolano, è una vera e propria star del web. I suoi video sono visti da 4 milioni di followers. Purtroppo può vantare un altro record, essere il primo youtuber a finire a processo di battimento terminato con 8 mesi di reclusione per tasse non pagate. Buongiorno amici! Per l'accusa avrebbe stipulato con le agenzie pubblicitarie contratti per la pubblicazione di banner sui propri video, usando la cosiddetta accessione del diritto di autore, che non prevede versamento di IVA. Tuttavia, in base a quanto accertato dalla Guardia di Finanza, avrebbe svolto attività continuativa professionale non compatibile con i contratti da lui stipolati. Ed è per questo che nel 2017 non avrebbe evaso IVA per 76.000 euro, omettendo di presentare dichiarazione e fini IVA per raid di pari a 344.000 euro. In un video, all'epoca dai toni insoliti, poco scherzosi, cercò di chiarire la sua posizione. Che in realtà non vuol dire che non ho pagato le tasse, le ho pagate in un metodo che loro non ritengono opportuno. Se poi un giorno ci sarà da pagare una multa, ovviamente lo faremo senza alcun problema, perché sono il primo che vuole regolarizzarsi. Con la speranza che nel corso del tempo la categoria YouTuber venga regolamentata correttamente per far sì che altre persone che fanno il mio stesso mestiere non si ritrovino in queste situazioni in circostanze abbastanza scomode con false notizie che magari girano sul web.